Bonjour mia family, bonjour, oggi non passerò la giornata a casa come tutti i miei vlog, che praticamente ci sono io che mi sveglio, vado da Goran tipo, edito e monto video, sono tutto il giorno a casa a fare video. La vita degli youtuber vera è questa, siamo tutto il giorno chiusi in casa a fare video, a parte quando abbiamo eventi e roba del genere, come sta succedendo oggi. Sono in treno, sono completamente struccata, ecco, e voi lo sapete, questa è la mia strategia, quando sono completamente struccata, occhialoni, per non far vedere le occhiaie, e infatti che sono completamente struccata, e adesso sono in treno e sto andando verso Milano, perché oggi c'è l'incontro con voi da Sephora, e tra l'altro mi sto rendendo conto che una ciocca dei miei capelli non è arricciata, ma va bene, dettagli, dettagli, facciamo finta che non si veda, e da Sephora c'è l'incontro con voi, in occasione dell'uscita del mio kit con Benefit Cosmetics, quindi è un incontro, appunto, organizzato, sponsorizzato da Benefit per il mio kit sopracciglia top, sono troppo troppo felice, come al solito, quando ci sono questi eventi e questi incontri con voi, sono sempre molto in ansia prima dell'inizio, però il treno in orario è in convenso, ho anche preso il pranzo, ed era l'ultimo primo piatto rimasto, quindi sono fatta data, e non avevo scelta, quindi ho dovuto prendere i tortellini con panna e prosciutto, ovviamente immancabile coca zero, questa è la borsa di oggi, perché mi sono portata dietro i trucchi, che devo truccarmi in treno, come al solito, ormai siamo desperta nel trucco in treno, make-up in treno, hai bisogno dei consigli? Chiedi a me, e niente, buon appetito direi, e abbiamo ancora, sono le quasi mezzogiorno, e arriviamo a Milano alle 13.45, quindi ancora due rette scarse, sono arrivata, e ho giusto il tempo di mangiare, truccarmi sostanzialmente, a dopo, ragazzi sono arrivata da Sephora, ma guardate chi c'è, non ci posso credere, non ci posso credere, che figata, e qui è dove faremo l'incontro, guardate il mio kit, e io tra l'altro sono arrivata anche in perfetto, scusatemi, sono arrivata anche in perfetto orario, strano ma vero, per una volta Trenitalia ha rispettato gli orari, e sì, siamo qui in Duomo, sono arrivata con super super anticipo, quindi adesso andrò a sistemare un attimino i capelli, perché questo c'è un quadrito, e sono emozionatissimissimissima, il parrucchiere è fantastico, che è sempre lo stesso che mi ha fatto i capelli la volta scorsa, quando c'era il party di lancio, e mi ha sistemato i capelli, perché tipo non sopportavo quella ciocca, poi mi ha sistemato un po' tutto, il volume dietro, eccetera, stanno già arrivando le prime ragazze, mi sono super emozionata, adesso sono qui perché devono ancora sistemare un paio di cose, quelli di benefit, eccetera, comunque ansia, ma è sempre così quando faccio gli incontri, prima sono in super super ansia, e dopo mi calmo, quando vi vedo, quando inizio a chiacchierare con voi, poi va tutto liscio, tranquillo, però prima ansia, tanta ansia. Sono già in aeroporto, prima dell'imbarco, ho preso un panino con la cotoletta, gnom! Ciao! Amore mio! Ciao! Sono tornata a casa! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì A gattastellina piace un sacco mettersi sotto questa pianta finta ed è come se si nascondesse nella giungla Che brava gattastellina che brava che brava bravo 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 Che tonto sei gattodembe vabbè Ok mia family sono tornata a casa come avete visto e mi sono messa subito comoda e ho tolto tutti i gioielli collane bracciali anelli Perché specialmente se sono via tutto il giorno così tante ore come oggi quando torno a casa voglio subito essere comodissima E mi sento più leggera se non ho niente addosso non so se ha un senso quello che dico comunque voglio sempre togliere tutto E a parte i piercing quelli nuovi ovviamente non li tolgo perché stanno insomma stanno guarendo piano piano quindi non vado a togliere il gioiello da sola E però importante è allora ho saltato un pezzo perché ovviamente io non potevo filmare durante l'evento perché ero costantemente con voi Quindi non potevo avere la videocamera e filmare ma sono a fuoco non so mai se sono a fuoco Però appunto però devo ringraziare tutti tutti quanti voi questa è la cosa più importante principale Devo ringraziare tutti quanti voi per essere venuti eravate tantissimi mi avete fatto un sacco cioè l'autostima voi me l'alzate boom così Cioè tutti i complimenti che mi fate poi è bellissimo chiacchieriamo è come se ci conoscessimo già mi chiedete di gatto Denver di gatto Stellina Anche insomma mi fate mi incoraggiate mi date gioia mi magari mi dite che quel video vi è piaciuto anche se è stato tanto criticato ma vi è piaciuto Oppure che vi aiuto la cosa più bella che mi dite agli incontri ed è il complimento più bello che possiate farmi E che vi ho aiutato con i miei video magari in un momento brutto a superare un momento un po' difficile O che vi regalo un sorriso quando ne avete bisogno Per me che comunque oltre a fare video che magari possono far passare il tempo ma non mi sa Non so mai di poter aiutare davvero qualcuno e quindi sì quando me lo dite è pazzesco perché appunto è una cosa che non ti aspetti ed è talmente grande E insomma mi fa mi rende molto molto felice e quindi sì è stato bellissimo Io voglio ringraziare tutti quanti voi per essere venuti davvero Mi raccomando adesso domani o comunque nel weekend filmerò il video annuncio con l'incontro di Roma perché il primo febbraio siamo a Roma Però vi darò tutte le informazioni sulla location e l'ora in un prossimo video quindi farò un video dedicato Vi scriverò incontriamoci a Roma e anche questo sarà appunto con Benefit per il lancio del kit Il mio kit sopracciglia top sì lo ripeto costantemente perché sono molto orgogliosa del mio kit e sono molto felice di com'è E mi piace quindi ecco per questo che lo nomino spesso un po' di shameless pubblicità senza vergogna veramente Però sì è stato bellissimo e non vedo l'ora di vedervi anche a Roma perché è da un po' che non vengo a Roma Vado più spesso a Milano a fare gli incontri mi sa purtroppo Anche questa è una cosa che voglio dire che non dipende da me io vorrei tanto poter raggiungere tutte le città possibili immaginabili Però molto spesso per i brand è più semplice organizzare a Milano e Roma e io non ci posso fare assolutamente nulla purtroppo Anche se io propongo sempre di venire anche al sud tipo Palermo so che siete in tantissimi e non ci sono mai venuta Ma anche in Sardegna anche a Bari o comunque in Puglia perché anche lì non sono mai stata insomma mi piacerebbe un sacco Io ci provo anche tornare a Napoli mi piacerebbe lì ho fatto diversi incontri ma mi piacerebbe tornare a Salerno che siete super calorosi Comunque appunto adesso sono riuscita a fare Milano ed è stato pazzesco e poi il primo febbraio Roma ma appunto vi darò tutti i dettagli in un video probabilmente il prossimo che sarà online lunedì Poi mi avete detto anche in tanti di non dar peso i commenti degli haters alle critiche eccetera eccetera E quindi mi aiuta anche questo insomma mi dà forza anche se potete pensare che magari un commento in più o comunque un bel messaggio in più non sia importante invece lo è E quindi è importante che lo sappiate e quindi non vedo l'ora appunto di incontrarvi anche a Roma sono super 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 emozionata Poi è cioè tra pochissimo il primo febbraio quindi sì questo è quanto mi sa per oggi io sono abbastanza cotta quindi mi lancerò subito nel lettone e andrò a fare la nanna E noi ci vediamo appunto lunedì con il nuovo video che sarà quasi sicuramente il video dell'annuncio per l'incontro di Roma con Benefit Ok buonanotte ciao Gatto Denver sta chiacchierando ininterrottamente quindi ci sarà questo piccolo bonus di Garun Ever un Garun Ever bonus questa sera prima di vedere nanna Perché Garun avrà bisogno di tante coccole tante coccole amore mio sì sì no la gatta è già lì pronta per andare a nanna Solo tu non sei pronto per andare a nanna che hai bisogno di tante coccole uno gattino Lulù bianco un po' carancione che era un po' che non te lo dicevo che sei tutto bianco e un po' carancione Che bravo che bravo che bravo saluta tutti i tuoi fans Gatto Denver che agli incontri mi chiedono sempre di te Tantissimo di te anche di gatta stellina ma soprattutto di Gatto Denver Saluta tutti i tuoi fans Gatto Denver i tuoi follower Ciao Questo era il saluto di Gatto Denver buonanotte o buongiorno a seconda di quando vedrete questo video Ciao ciao Grazie a tutti